Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Lo scorso 19 gennaio Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, inaugurando al Parlamento Europeo il semestre di presidenza della Francia, ha proposto di inserire l'aborto come diritto fondamentale dell'uomo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata a Nizza nell'anno 2000 e poi ratificata dal Trattato di Lisbona del 2007 come una sorta di carta costituzionale europea. A fianco di Macron a Strasburgo c'era l'eurodeputata Roberta Mezzola, eletta il giorno prima presidente del Parlamento Europeo in sostituzione di Davide Sassoli. Dopo l'elezione la neopresidente Mezzola ha voluto rassicurare chi si era preoccupato per alcune sue precedenti dichiarazioni contro l'aborto con queste parole sull'interruzione di gravidanza la mia linea sarà quella dell'aula. Interruzione di gravidanza, non aborto. Conformità alle decisioni della maggioranza dei parlamentari, presumibilmente non solo sull'aborto ma su qualsiasi abominio l'Assemblea dovesse esprimersi. E il giorno dopo la presidente Mezzola ha ascoltato le parole di Macron senza battere ciglio. La proclamazione da parte di Macron dell'aborto come un diritto dell'uomo fatta davanti a un'assemblea plenaria che comprendeva molti cattolici e molti conservatori ha assunto il significato di una sfida frontale come quando un precedessore di Macron, Jacques Chirac, si opponeva all'inserimento nella carta dei diritti di qualsiasi riferimento alle radici cristiane dell'Europa in nome della tradizione laica e rivoluzionaria della Francia. La rivoluzione francese pesa ancora all'inizio del XXI secolo e dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 derivano tutti i diritti, moderni e postmoderni, compreso lo slogan delle femministe A questa proclamazione di pseudodiritti l'uomo diretta coscienza deve opporre un no assoluto senza eccezioni e senza compromessi. La ragione, la coscienza, la legge naturale impressa nei nostri cuori ci dice che mai, in nessun caso, è lecito uccidere l'essere umano innocente. La proibizione dell'aborto, dell'infanticidio, dell'eutanasia, dell'omicidio in generale si basa su questa legge che è assoluta, senza eccezioni, senza compromessi possibili. Se si ammette un'eccezione alla legge morale, tutta la morale crolla. Sotto questo aspetto, la disposizione al compromesso di Roberta Mazzola appare non meno grave della provocazione anticristiana di Macron. Emmanuel Macron è un nemico dichiarato della legge naturale cristiana che trasforma un delitto in diritto. Roberta Mazzola è un falso amico che, accettando la trasformazione del delitto in diritto, contribuisce al disarmo psicologico e morale dei difensori della vita. Il risultato è una banalizzazione del male che, in molti paesi, compresa l'Italia, ha portato all'uccisione di massa attraverso la pillola abortiva. In Italia e in molte regioni, i farmaci fai-da-te sono diventati il primo sistema per abortire, mentre la chirurgia è diventata minoritaria. Mancando il trauma psicologico dell'intervento ospedaliero, le coscienze si assuefano più rapidamente al male, di cui diventa anche impossibile misurare l'estensione nella società. Però dobbiamo ricordare che ogni colpa ha una pena, e più una colpa è grave, più grave è la pena. Le colpe individuali hanno la loro pena in questo mondo o nell'altro, prima o dopo la morte. Ma se le colpe sono pubbliche, commesse da una nazione o da più nazioni, le pene avvengono su questa terra, perché le nazioni, a differenza degli uomini, non hanno un destino ultraterreno. La pandemia in atto, i venti di guerra che arrivano dall'Europa dell'Est, la possibile deflagrazione di una crisi economica sono tutti elementi di preoccupazione che dovrebbero farci riflettere. Se la riflessione manca, le nazioni si avviano con superficiale incoscienza verso il baratro che le attende. E agli uomini riflessivi e diretta coscienza non resta che continuare a pregare e a combattere, affidando tutto alle mani di Dio. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. 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 www.radioromalibera.org.